Mirando quel tempo è ad uno machte che può cambiare i contratti, può negociare per cambiare i contratti, sin embargo, a base di concessione a questo luogo è entre il construttore e l'obdragero del paese di Ruba e i lenders, come voi sapete, a Caya Deng e il 4 di lunedì di februari, ha ponuto un embargo, se voglio dire, non letteralmente, però arriva a parte finanziaria del progetto qui, che aiuta a negociare a questo luogo con l'Awe, a pesar di che è stato un anno più tardi, praticamente, perché questo è stato un anno passato, mi serve a rinunciare a fare un'altra forma, in giù l'anno 23, ora che è andata, che è arrivato, definitivamente non è arrivato, non è arrivato, non è arrivato a un dato, ma è arrivato, non è arrivato a un punto, non è arrivato a un punto, ma è arrivato a un'altra cosa, ma anche, se non è arrivato a un caso, che è arrivato il progetto qui,